Guardavo spesso una coppia perfetta. Erano esattamente la personificazione del vero amore. Ha visto questa donna, per caso? Lavorava per il suo ex marito. E ora è sparita. O l'ha mai vista? No, mai. Almeno non credo. Non sarà perché era ubriaca? Che stai facendo? Che stai facendo? Non contatti più il suo ex marito. Non si avvicini mai più ad Anna Watson o alla bambina. Lasciaci in lato. È stata lei ad ammazzare Meghan Ipul? Tre donne. Un unico insospettabile destino. Dal romanzo di Paul Hawkins. Emily Blunt. La ragazza del treno. Questa sera alle 21.20. Rai 3.